Il dopo Covid sarà un dramma sociale ed economico, i poveri sono in aumento. A parlare il direttore della Caritas di Avellino, Carlo Mele, che sta collaborando con il Comune per aiutare i bisognosi. Dopo l'emergenza strettamente sanitaria ce ne aspetta una sociale, altrettanto pesante. Sarà un periodo lungo, si parla non meno di un anno in cui saremo chiamati, chiaramente come Chiesa, ma penso tutte le istituzioni a supportare quello che è il disastro economico che questa pandemia lascerà. L'economia non riparterà subito. Mele è scettico sull'allestimento di un centro operativo a Campo Genova per la gestione dei servizi essenziali destinati alla popolazione più a rischio. Non c'è questa necessità, non è un piano di disastro in cui c'è bisogno di un punto di riferimento. Da una parte ci arrivano le indicazioni di restare chiusi in casa e cosa potrà servire. Intanto alle porte c'è una Pasqua necessariamente diversa. La gente sempre di più chiede, ha necessità anche della Chiesa come luogo con cui andare a creare questo rapporto con il nostro Signore. Purtroppo devono stare chiuse. E la solidarietà riguarda anche le forze dell'ordine. A Monte Miletto i carabinieri hanno assistito una ultraottantenne che sole con problemi di salute ha telefonato in caserma per ricevere un aiuto. Rimasta senza viveri, i carabinieri le hanno fatto la spesa e gliel'hanno portata a casa. Un'occasione anche per confortarla e alleviarle lo stato di solitudine. Grazie. Grazie.